Un f***o party? 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 Cosa fa sta donna? Si, è caduto Pierce. È caduto Pierce. No porca miseria, Pierce è un cretino. CRETINO! You know what I'm saying? You know what I'm saying? Muoviamo circa il finito. È la fine. One shot bitch e anche no scope tra l'altro. Arrivano gli elicotteri. Andiamo a prendere la roba antiaerea dai. Pierce è sparito davanti ai miei occhi. Te lo dico molto semplicemente. Smooth. Smooth dancing. Ma è caduta una tipa. È caduta una tipa. Scusi ho sbagliato. Questa è Mucciaccia. Guarda che belle queste. Anche se sono identiche. Ma chi è Mucciaccia? Ciao bro. Geronimo! Sarebbe una gran figata se ci arrivassimo giusti. Tac. Guarda. Ia bibi. Sedia rotante. Tac. Vino cartonato. Tac. Tonno e grissini per tagliarlo. Tac. Edo. 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 Cosa stai facendo? Perché? Ma cosa succede? Sto guardando la guida io. Mitty guardala. Ma in t-pose? Io non la vedo in t-pose. La vedo fermissima. Una sta continuamente correndo all'infinito. Una era seduta per terra. Vabbè. E lascia che stia tranquillo. AAAAAH! E adesso? E adesso così. Dove vuole andare in acqua? Guarda che te la fa. Ma hai visto? Si sono alzate. Perché hanno detto. Osti. Ma c'è uno che ti sta correndo dietro Edo. Vorrà salutarmi. Edo. 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 I sui tu. Ok. No. Su cosa è andato a sbattere. Non è vero. Ma perché si incastra? Edo. Guarda che stai facendo. Aiuto. AAAAAH! AAAAAH! Vedo la parte dietro dell'elicottero e poi il... Comunque è difficilissimo sparare alle navi con il lanciarazzi